Allora, buonasera a tutti, eccoci qui alla nostra probabilmente ultima diretta di questa campagna. Ci troviamo sulla Gaia Blu, siamo questa volta molto più lontani dalla costa, siamo ben 50 miglia, quindi a 5 ore di navigazione dal porto di Bari e ci troviamo ai piedi della montagna sottomarina denominata Dauno Seamount, a una profondità attualmente di 1100 metri. Cosa stiamo cercando questa sera? Di esplorare una zona mai vista in cui speriamo di incontrare coralli bianchi profondi. Abbiamo studiato questo sito che dovrebbe essere potenzialmente ricco di coralli. Oggi pomeriggio abbiamo esplorato un sito ancora più profondo che era purtroppo invece il maggiore accumulo di spazzatura incontrato fino adesso. Passo la parola a Marco che ci può iniziare a descrivere questo bellissimo fondale. Eccoci qua di nuovo. In questo momento, visto che è quasi sicuramente l'ultima immersione ROV di questa fantastica campagna, tutti i descrittori dei fondali che avete visto in queste notti sono contemporaneamente nella stanza. Quindi abbiamo Luca a destra, lui sarebbe il turno dalle 4 alle 8. Giovanni Chimienti di Università di Bari che sta per andare su nel container dove ci sono i piloti ROV, così l'interazione è migliore e direttamente magari lui potrà vedere qualche animale particolare e permettere quindi una visione migliore e una scelta migliore degli oggetti da ingrandire, descrivere. Allora, cosa succede? Oggi è la giornata in cui abbiamo esplorato veramente le parti più profonde del sistema del Canyon di Bari, iniziato con un tentativo di localizzare un ancoraggio profondo messo dai nostri colleghi Leonardo e Stefano, ormai conoscete quasi tutti noi dalle precedenti serate in diretta, l'abbiamo trovato, era coperto di coralli, cresciuti quindi in appena 4 anni, diversi da quelli di cui vi abbiamo parlato finora, chi ha avuto la pazienza e la volontà di rimanere sulla sera, da quando siamo partiti abbiamo lasciato Crotone, poi siamo arrivati a Santa Maria di Leo che è finalmente in Adriatico, abbiamo visto molte volte cespugli di corallo bianco, la madrepora, che si spinge anche nella parte più, diciamo, meno profonda, più elevata di questo sistema, andando verso la parte più profonda, la madrepora un po' si rarefa e si trovano invece dei coralli chiamati solitari, perché anziché fare dei cespugli come la madrepora sono degli individui, degli individui solitari, appunto, ognun per sé, che magari possono essere anche ravvicinati, essere gregari, però non sono coloniali e a questa profondità è meno rara l'altra specie di corallo bianco, estremamente importante, estremamente carismatica e che in Atlantico, per esempio, forma delle scogliere gigantesche, ci sono delle dorsali a largo della Norvegia, lunghe decine e decine di chilometri, coperte per 40 metri di estensione, quindi, diciamo, dalla profondità di 200 metri alla profondità di 240, di questi coralli quasi senza soluzioni di continuità. Questo corallo, questo particolare costruttore, si chiama Lofelia, che è un nome molto bello, sa molto di classico, la Lofelia, gli abbiamo dovuto purtroppo cambiare il nome perché, insomma, poi i ricercatori sono anche un po' fissati, quindi noi diamo dei nomi e poi troviamo delle argomentazioni valide, zoologiche, per dire che, insomma, forse non è il nome giusto da utilizzare, comunque questi sono dettagli. Per nostra comodità lo chiameremo Lofelia e abbiamo rintracciato un piccolissimo gruppetto di una piccolissima colonia proprio ai piedi del mooring, dell'ancoraggio dei nostri colleghi. Allora questo, insomma, è risultato in una valutazione, ci siamo trovati tutti a discutere sull'opportunità di andarli a cercare non attaccati a un oggetto smarrito, che era appunto questo ancoraggio con tutti gli strumenti per misurare le correnti, la salinità, la temperatura, che aveva smesso di funzionare, quindi sono stati molto bravi. E a rintracciarlo, come al solito, un grande plauso va alla componente tecnica. Noi siamo un po' più passivi, forse siamo la componente più passiva, cioè noi diciamo vorremmo andare lì, facciamo le mappe, però questa è la nostra volontà. Poi la capacità di esserci sul serio, di operare, è affidata alla perizia veramente notevole dell'equipaggio, il comandante di tutto l'equipaggio della Gaia Blue, e all'equip che è dedita al rover, robot sottomarino. Ha lavorato molto bene, abbiamo visto questa chicca biologica e adesso la stiamo cercando perché sappiamo che è una profondità, vero Giovanni, una profondità adatta per l'alofelia e quindi andiamo a vedere se troviamo il substratto giusto, che deve essere una roccia di fondo abbastanza grandina o la parete del canyon. Qualcuno chiede che cos'è questa cosa? Non lo so, ora stanno mettendo a fuoco. Ecco, dice che bisogna prima cercare di capire, di metterla a fuoco e poi provare a classificare questo oggetto, qualcuno dice un'ombra. Vedete? Il prossimo punto c'è. Va bene, l'ombra di che cosa? I due puntini verdi sono, come al solito, la distanza che ci segnala i nostri puntatori laser montati sul ROV, si chiama Tomahawk, questo particolare ROV, ce ne sono tantissime tipologie a seconda della necessità che uno deve affrontare nella propria investigazione o anche nelle applicazioni industriali e ovviamente ci sono oggetti molto piccoli, più facili da maneggiare ma con tutti poi i problemi, la navigazione, una corrente appena appena un pellino forte li porta alla deriva molto più facilmente, fino a quelli chiamati work class, che sono invece veramente delle strutture imponenti che richiedono molto molto personale di supporto, estremamente pesanti, richiedono anche una nave consona alla possibilità di effettuare il lancio, il recupero e l'operazione di ROV. La nostra nave, che forse l'avevi già detto, ma comunque è la Gaia Blu, l'ammiraglia della flotta del CNR, che sta cominciando proprio adesso, in questa stagione, la sua avventura come nave della ricerca italiana, perché fino a due anni fa era ancora la nave Falkor dello Schmidt Ocean Institute, che ce l'ha donata, tutti i tempi tecnici per sistemarla, cambiare alcune strumentazioni, aggiungerne delle altre, perché la Falkor era soprattutto prima una nave di osservazione, una perfetta piattaforma proprio per i ROV, ma non poteva fare i carotaggi, non poteva fare molte operazioni tipiche della marineria scientifica, della oceanografia scientifica. Questo ha comportato quindi più di un anno e mezzo di valutazioni ingegneristiche, poi cantieristiche e adesso finalmente siamo nelle prime crociere vere. sono state alcune sperimentali e questa qui è, diciamo, forse la seconda poco sperimentale, vabbè che quella precedente addirittura è stata chiamata test, era una cosiddetta di test, quindi già test è la parola che ti dice vediamo, proviamola, è andata benissimo, per cui anche la Pioneer 1 di non tanti mesi fa, vero? di dicembre, dice appunto, ricorda Federica, è stato un notevole successo, non avevate il ROV in quell'occasione? No, non avevate il ROV in quell'occasione. Allora, prima di questa campagna, a dicembre, c'è stata una campagna che si chiamava Pioneer, il capo missione era Marzia Rovere, che chissà, forse ci sta seguendo. Non avevamo il ROV, era una campagna, diciamo, finalizzata a scoprire la parte geologica e la parte oceanografica e era nel Marionio. Non c'era il ROV. Diciamo che la prima campagna ROV su Gaia Blu è questa qui, in cui abbiamo sperimentato la capacità di utilizzare un ROV, anche se comunque la Falcor aveva fatto più di 600 immersioni ROV in tutto il mondo, ma con un ROV diverso e con installazioni diverse. In questo caso, il ROV, per esempio, è installato a parete, su questa nave. Adesso stiamo ascoltando le indicazioni dei nostri piloti ROV, che si trovano non qui con noi, vero Marco, sono fuori, sono in un container esterno e comunichiamo attraverso una via radio o via microfono. Questi puntini verdi che vedete sull'immagine ci indicano la porzione di territorio che stiamo guardando. Stiamo ora guardando 10 centimetri, quindi ci fanno rendere conto della dimensione delle cose che vediamo, degli oggetti. altrimenti sarebbe impossibile capire che cosa stiamo guardando a livello di dimensioni. Quindi un righello, ci serve un righello per dimensionare gli oggetti. Allora, qui come diceva Marco, adesso ricordo la profondità ancora, siamo a 1089 metri, siamo molto profondi e il viaggio di questa sera sarà la risalita di una scarpata fino alla cima di questo monte sottomarino denominato Downo Seamount, che si trova a largo del Adriatico Meridionale, a circa 50 miglia, quindi 5 ore di navigazione, dalla costa e dal porto di Bari. Non siamo mai stati qui, l'unica esplorazione, l'unica immersione ROV fatta in questa zona risale al 2007, se non sbaglio Marco, e fu fatta con una nave tedesca e in quella spedizione non furono trovati, se non sbaglio, i coralli in quest'area. Però è stato fatto un unico tentativo, per cui oggi andiamo a vedere di caratterizzare questo habitat, questo habitat che perché è così importante Marco, perché stiamo cercando questi coralli? Adesso poi parleremo anche del progetto, però se intanto ci vuoi dire l'importanza proprio per l'ecosistema di avere habitat di questo tipo. Certo, certo. Allora, innanzitutto abbiamo già un corallo, quindi già ci presentiamo con uno dei coralli solitari che vi dicevamo, è quella specie di funghetto piccolino, di colore rosato, che adesso stanno cercando di mettere a fuoco. Dal punto di vista, diciamo, delle scogliere a coralli bianchi di profondità, sembra veramente un'inezia, ma in realtà è una meraviglia, perché qui è difficilissimo per i coralli trovare la possibilità di formare in questo specifico settore del canyon, di trovare un sostratto degno per loro di passare un'esistenza che ricordiamoci è di parecchi anni, se le cose funzionano bene. Ha trovato comunque una possibilità, questo corallo abbastanza piccolino che ha un nome molto elegante, in latino si chiama Desmophilum, come l'Ophelia sembrano proprio dei nomi di divinità greche, no? Si chiama Desmophiludiantus, cioè lui non si chiama ovviamente così, lui non si chiama, essendo un animale è lì e basta, ma noi che siamo fissati di catalogare le cose abbiamo deciso che questa specie si chiama Desmophilum. ha trovato un'opzione di vivere protetto dalla corrente troppo forte che qui c'è e lo si capisce perché c'è poco fango e soprattutto c'è un po' di graniglia sul fondo, come vedete, queste rocce che sono chiamate tecnicamente di hard ground, che vuol dire rocce dure, che non sono altro che antico sedimento che si è litificato e l'esposizione prolungata nell'acqua di mare a queste profondità fa sì che col tempo appunto si indurisca e abbia queste patine, queste patine minerali che sono poi degli ossidi di ferro, di manganese, insomma non è una specie di, proprio per fare una specie di confronto che magari c'è un po' più familiare, la famosa vernice del deserto su quei ciottoli che si trovano appunto in mezzo magari su una duna o in una piana desertica in Arabia o in Nord Africa. E quindi ci dice che i coralli qua possono starci, conferma quello che avevamo già documentato osservando l'enorme struttura del mooring che è stato perduto, non l'abbiamo potuto recuperare, è una struttura molto grande, complessa, pesante. Sì, adesso stanno cercando appunto di, ecco vedete, qui essendo un pochino più grande il substrato, diciamo più superficie, vedete che è indurito come vi dicevo e soprattutto ha questa patina di ossidi, qui abbiamo una specie di frangia di desmofilli, ce ne sono diversi esemplari, sono quelli che sembrano un po' delle margherite, solo che sono dei coralli, sono degli animali. Tra l'altro sono specie straordinarie, noi li conosciamo in tutti o quasi gli oceani del mondo, non è tanto tempo fa che li abbiamo osservati e raccolti e c'era anche Federica in questa grande avventura nei canyon sottomarini a largo dell'Australia. Lì tra l'altro raggiungevano anche dimensioni considerevoli, questi sono piccolini, sono in condizioni di vita un po' difficile e stentata, ma se li mettiamo in una condizione ottimale possono diventare anche di 5-6 cm e anche di più e sviluppare dei calici veramente grandi. Il calice sarebbe appunto il corallo che si svasa sempre nella sua parte più alta dove risiede il polipo che è l'animale che si crea poi lo scheletro calcareo nel quale alloggerà tutta la sua esistenza, che è un minerale, appunto il carbonato di calcio, che è lo stesso minerale che fa le dolomiti, che ci incrostano le lavatrici, cioè è un minerale piuttosto banale, il carbonato di calcio, che però poi tanto banale non è perché gli organismi vitali, tanti organismi vitali l'hanno selezionato come minerale perfetto per costruirsi il proprio scheletro, che può essere o interno o il più delle volte, almeno negli invertebrati marini esterno, cioè in ultima analisi le conchiglie e i coralli. Noi, la nostra conchiglia all'interno, ciò che ci sostiene all'interno, negli molti animali invertebrati, ma anche pensate a alcune piante che utilizzano il carbonato di calcio come fosse quasi uno scheletro, anche se è un po' improprio chiamarlo scheletro, è invece esterno, ma ci sono tanti tipi di carbonato di calcio, nel senso che anche se la formula chimica che non vi sto da dire, pertanto è inutile, è la stessa, in realtà se c'è diversità nella vita organica di animali e piante ce n'è anche nella storia minerale, per cui gli animali si organizzano in una certa maniera, cambiano le proprietà, insomma i due minerali chiamati carbonato di calcio classici sono la calcite, che è quella delle ostriche che abbiamo visto ieri sera, che è un carbonato di calcio bello stabile, ci mette tanto tempo prima di deteriorarsi e scomparire, è una forma invece meno stabile, che ha a che fare con la sua ovviamente composizione e struttura chimica del quale non c'è nessuna ragione adesso di parlare, che si chiama Aragonite, bel nome comunque Aragonite, credo che l'avessero scoperto le prime volte in questi cristalli descritti forse su qualche miniera o giacimento in Aragona, in Spagna, comunque sia, i coralli questi, il loro scoperto lo fanno in Aragonite, che essendo più delicata e meno stabile, in realtà è un po' più minacciata da uno dei problemi di cui ci avete sentito parlare, certamente non solo noi, noi siamo poi gli ultimi nella nella filiera di quelli che parlano dei disagi ambientali, dei rischi del futuro anche prossimo, che è l'acidificazione degli oceani, essendo questo minerale più labile e diciamo più esposto a essere in crisi con il progressivo aumento dell'acidificazione degli oceani, che ha molto a che fare con l'anidride carbonica, cose molto tecniche che uno volesse mai approfondire, insomma, basta che vada a leggersi un libro come si fa oggi, basta andare sul web e potete imparare vita e morte e miracoli. Quindi noi li teniamo molto 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 sotto controllo. Per certi versi sono un po' delle sentinelle della salute del mare, ma non magari quella ovvia come poi i rifiuti che noi abbiamo osservato in questi giorni, tanti poi, tanti in questa zona del canyon, più di tutti quelli che abbiamo visto nei giorni passati, probabilmente convogliati dalle correnti e sacchi, sacchettini, anche una rete per la prima volta e vanno a intrappolarsi in queste asperità durissime, per cui anziché transitare e magari andare verso profondità maggiori, si accumulano in questa zona. Mi hanno fatto notare, per esempio, che quando noi chiamiamo, che è anche pertinente, questi sacchetti, queste robe, lattine, la chiamiamo spazzatura, come la chiameremo a terra, che sembra poco elegante, ci diceva Barbara, magari usate un altro termine, rifiuti, perché in inglese è vero che sembra più marine lit, dice marine lit, sì, perché loro non dicono marine garbage, in effetti, che sarebbe la traduzione, no? Adesso dobbiamo riflettere, rifiuti, brava, rifiuti. Ecco, tecnicamente adesso stiamo a vedere una cosa che non abbiamo proprio visto nei giorni precedenti, perlomeno non così sviluppati. Qui è veramente il fondale a hard ground, cioè si vedono queste rocce che non sono altro che strati sedimentari che si sono induriti in posto. scordatevi che siano, che ne so io, rocce laviche, anche se sono nere, o graniti, che per esempio li trovi anche molto comunemente se vai sott'acqua, non so, a largo della Sardegna, scendi, trovi anche questi hard ground sedimentari, ma spesso trovi proprio rocce granitiche, oppure i vulcani sottomarini che abbiamo, ci hanno veramente lave che non hanno bisogno di essere indurite. Quindi è tutta una serie di processi, se vedete, se ragioniamo un po' concatenati tra loro, hai del sedimento che sarebbe sciolto, hai un ambiente particolare che è un canyon. Abbiamo visto che le correnti, vero Luca, qualche volta sono molto forti, ma altre volte come tocchiamo il fondo si alza il fango e ci mette tantissimo tempo per rideporsi perché l'ambiente è praticamente statico e stagno come l'ansa di un fiume dal lato dove l'acqua rallenta. Insomma, tutte queste cose qua hanno bisogno di secoli, hanno bisogno di millenni, ma alla fine cospirano per portare a un panorama particolare. Sì, infatti abbiamo notato, ma sicuramente Giovanni adesso ci proverà a fare riabbassare, no? È difficile forse manovrare in questa fase. Comunque c'era un altro giardinetto di piccoli corali desmofilli, poi bellissima è anche gli animali che stanno nel planton, le meduse, ci sono tantissime specie, sono sempre queste ballerine gelatinose così garbate, non ci stancheranno mai. Quando le vediamo dobbiamo guardarle anche se noi non abbiamo competenze sullo zooplanton, per carità. prima, Federica, volevi anche magari fare un parallelo tu sul fatto che stiamo vedendo dei grandi giardini di spugne, che però non sono solo spugne, ma questa volta cominciamo a vedere questi corali rispetto a quello che abbiamo visto stamani? Sì. Allora, come diceva Marco, stamattina abbiamo fatto un'altra immersione ai piedi di questa montagna sottomarina, che ha una forma un po' particolare. Adesso magari possiamo con la telecamera poi far vedere quello che stiamo guardando noi. Ai piedi di questa montagna abbiamo trovato dei giardini di spugne, così come state vedendo ora, e purtroppo anche il maggiore accumulo di buste di plastica che abbiamo visto in questi ultimi 15 giorni. Molte di queste buste le abbiamo anche recuperate. L'obiettivo di oggi in realtà era un obiettivo molto emozionante perché in questo punto, che adesso non stiamo vedendo, circa quattro anni fa era stato installato, attaccato al fondale uno strumento che si chiama catena correntometrica, che va dal fondale fino a circa 100 metri sopra. Questa catena era stata persa e non funzionava più, non rispondeva più ai comandi e abbiamo tentato di andarla a cercare. In realtà era una missione abbastanza difficile perché come come potete rendervi conto noi guardiamo una porzione di fondale molto piccola. I nostri piloti ROV sono stati bravissimi e quindi l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata e la grande sorpresa oltre che averla trovata è che era colonizzata da coralli. E quindi che cosa significa questo? Che da queste parti ci sono le larve dei coralli, quindi la corrente è molto forte e le trasporta e laddove i coralli hanno trovato un substrato duro si sono attaccati, in questo caso la catena correntometrica. Era però pieno di buste di plastica e quindi queste buste sono state trascinate, trasportate sui fondali fino a 1200 metri e sono rimaste lì intrecciate tra le spugne e sopra queste buste abbiamo trovato anche dei coralli che quindi si sono attaccati anche alle buste di plastica. Alcune di queste buste siamo riusciti a recuperarle, a portarle a bordo e dentro alcune di queste abbiamo trovato anche delle spugne. Questo un po' ci fa vedere come poi la natura in un certo senso ci sopravviverà e quindi si adatta sicuramente a tutto quello che arriva. Sarebbe meglio non farli arrivare a cumuli di buste di plastica perché poi si deve riadattare sicuramente a un ambiente non naturale. Come abbiamo detto in tutte queste giornate queste buste di plastica oltre a diventare un nuovo substrato innaturale poi si degradano nel tempo e si trasformano in microplastica. Abbiamo trovato anche delle reti per la prima volta a queste profondità, reti abbandonate sul fondo, perse dai pescatori che anche quelle purtroppo possono continuare a fare la loro funzione e comunque offrono un substrato anch'esso innaturale. Adesso ci siamo spostati, stiamo salendo verso la cima di questo Sea Mount e come diceva Marco stiamo tentando di capire se anche qui l'ambiente è adatto alla vita di questi coralli che poi come Marco vi ha detto sono di diverse tipologie. Ma magari raccontiamo per chi si è unito solo questa sera che poi è l'ultima sera per noi, domani sera saremo in porto quindi non ci sarà una diretta, penso che ci sarà una serata conclusiva. Comunque tutte le registrazioni fatte fino adesso sono sul canale YouTube del progetto Life Dream coordinato dal CNR e da me, dalla sottoscritta e quindi potrete vedere tutte le... se vi manchiamo vi potrete rivedere qualche qualche video. Poi dal 5 di maggio partirà una nuova spedizione nel Golfo di Napoli e speriamo di poter trasmettere, non ci sarò io, ci sarà Marco, l'altro capo missione sarà Paolo Montagna. Perché siamo venuti qui? Per chi ci stesse seguendo solo da stasera, ribadiamo che ci troviamo sulla Gaia Blu, la nave oceanografica del CNR, siamo una squadra di 19 ricercatori e abbiamo varie specialità, abbiamo biologi, geologi, oceanografi e questa volta abbiamo anche i nostri amici di Space 42, cioè un'agenzia di comunicazione che ci ha seguito durante tutto il viaggio e ci ha raccontato di noi fuori di qui. Infatti se volete vedere anche le nostre storie giornaliere, c'è il canale Instagram ma anche il canale YouTube dove Alessandro e Sania hanno condensato real, abbiamo imparato anche questa parola Marco, adesso siamo diventati super social e quindi delle pillole che sintetizzano un po' tutte le giornate unendo un po' le scoperte scientifiche alla vita di bordo perché poi qui si vive tutti insieme 24 ore su 24. Ecco è arrivata Alessandra che si è presa 5 minuti di pausa che magari tra un po' ci racconterà qualcosa di quello che fa. Insomma noi il progetto per cui siamo venuti qui aveva lo scopo di tutte queste due settimane, in realtà sono stati 17 giorni, di ripristinare di fatto fondali impattati dall'uomo e tentarli di ripulire da questa marine litter. È quello che abbiamo fatto, ne abbiamo trovata meno dove pensavamo fosse più concentrata quindi nel canyon di Bari, ne abbiamo trovata tantissimo a queste profondità e comunque un'altra azione che abbiamo fatto in questi giorni è stata quella di mettere sul fondo delle scogliere artificiali che costituiranno la nuova casa per i coralli. Per esempio Marco se in queste zone mettessimo una scogliere artificiale ospitale probabilmente sarebbe in grado di essere colonizzata vista le correnti e vista la situazione e visto anche che una catena correntometrica, cioè sostanzialmente una cima con attaccati degli strumenti, in quattro anni si è colonizzata con un tasso di crescita che non ci aspettavamo. C'erano dei corallini di circa tre centimetri in soli quattro anni. Voi pensate in quattro anni solo tre centimetri. Sì, la crescita di un corallo è molto lenta anche se è per questo che è così importante mantenerli e non distruggerli perché la ricrescita di una foresta di coralli avviene veramente in tantissimi anni. Le infrastrutture che abbiamo posato nel canyon le andremo a ricontrollare tra circa un anno. Comunque tutti i siti dove le abbiamo messe hanno una telecamera, una telecamera bentica o meglio una telecamera subacquea che scatta una foto ogni ora e quindi saremo in grado poi di ricostruire che cosa è successo durante tutto l'arco dell'anno e di studiare tutta l'interazione anche tra i vari ecosistemi, quindi capire chi colonizzerà queste nuove casette e come. La cosa curiosa è che soltanto dopo tre giorni che l'avevamo messa giù, una di queste casette c'erano già i ricci ad ospitarla. Abusivi. Non aspettavamo i ricci, però troveranno un modo di gestirsi. Questo era un po' per raccontare la storia e perché ci troviamo qui. Ora continuiamo a risalire questa parete. Devo dire Marco che qui non troviamo molta spazzatura, probabilmente perché la spazzatura scivola. La spazzatura non piace, quindi chiamiamola rifiuto. Questi rifiuti probabilmente scivolano e scivolano dove li abbiamo visti questa mattina. Invece troviamo un substrato molto duro, quindi si tratta di una parete scoscesa, questo lo sapevamo e lo sapevamo già perché qui abbiamo prima di tutto un rilievo battimetrico. Cosa significa? Abbiamo ricostruito con degli strumenti acustici il panorama sommerso già qualche anno fa. Quindi prima di decidere di fare questa immersione qui ci siamo studiati molto attentamente come è fatto il panorama e anche com'era la tipologia di substrato. Ci serviva un substrato duro e ci sta dicendo Giovanni che qui su questi blocchi ci sono degli cluster, cioè degli aggregati di desmofillum, Marco, quindi di coralli bianchi. È un corallo solitario, quindi non sono come l'allofelia che formano queste foreste ervorescenti, però comunque un dato estremamente interessante. Allora io leggo un attimo la chat. Per salutare anche chi ci segue abbiamo anche dei follower, così chiamiamoli affezionati, che ci seguono dall'inizio e che mi fa piacere anche salutare. Vediamo un attimo la chat, vediamo se la vedo. Allora salutiamo i nostri colleghi, intanto Valentina e Giorgio che sono a Barcellona e non sono andati in vacanza, ma sono andati a presentare il progetto live all'Ocean Decade delle Nazioni Unite, quindi congratulazioni anche a Giorgio e Valentina e una buona serata a Barcellona. Saluto calorosamente anche Gabriele che ci sta seguendo dall'inizio e che abbiamo allietato, spero, le sue serate. Qui sono tantissimi Marco e desmofillum, adesso passo la parola a Marco che ci siamo già emozionati. Sì, beh, insomma sta andando bene. Noi avevamo ancora visto durante questa spedizione un giardino fatto dai desmofillum. Non è una sorpresa, vale a dire che era pianificato, ne avevamo anche parlato precedentemente. Noi non è che per la prima volta al mondo scendiamo in ambienti simili. Sono almeno 15 anni che esploriamo ambienti di grande profondità, montagne sottomarine, canyon e abbiamo sviluppato ormai la conoscenza, diciamo, di base strategica per sapere dove possono trovarsi e come passano le loro esistenze. avevamo già annunciato all'inizio che se avessimo trovato delle paretine appena un po' più grandi avremmo trovato più coralli. La nostra speranza è anche sempre di riuscire a intercettare un posto magari appena un po' più riparato dove vedere una magnifica lofelia. Però queste margherite di mare, questi desmofillum, tutti insieme, vedete con i polipi, almeno alcuni di loro sembrano di potersi vedere, di vedersi noi tentacoli aperti, stanno mangiando, quindi stanno filtrando la colonna d'acqua perché non hanno la possibilità di muoversi, sono appunto saldati molto fortemente dal substrato e quando ne vediamo così tanti vuol dire che è un ambiente eccezionale, è quasi un micro reef, un mini reef caratterizzato da questa specie. È la seconda volta nella storia dell'esplorazione del subacquea che si scende in questa parte del sistema del canyon di Bari. Io ho avuto l'enorme fortuna di partecipare anche alla spedizione precedente che fu a bordo di una nave tedesca, la Meteor, sulla quale ero imbarcato anche quattro mesi fa ma in Mar Rosso dove queste cose un po' ce le sogniamo. Infatti la felpa di stasera non è quella ufficiale che avevo prestato prima perché faceva freddo, è quella della Meteor che è un'altra nave storica e proprio grazie ai nostri dati molto puntiformi, molto parziali delle campagne fatte senza rove dal laboratorio e poi istituto di zoologia marina che dopo è diventata una delle componenti dell'ISMAR che è forse il più grande istituto di ricerca del mare che abbiamo in Italia numericamente insomma con varie serie eccetera ed è ben rappresentato a bordo di questa spedizione, Federica ne fa parte come altre 4-5 del bordo però abbiamo anche l'istituto di scienze polare, il CNR, i cui colleghi erano dell'ISMAR fino a pochi anni fa e dell'IRBIM che infatti Luca che è andato via che se no ci poteva raccontare qualche cosa anche lui ma lo farà più tardi nella notte e più i colleghi che partecipano a questo progetto, Giovanni per esempio l'Università di Bari, l'Università di Bari abbiamo lavorato con loro e continueremo a lavorare con loro per sempre su questi ambienti sperabilmente perché sono più le cose che ancora ignoriamo di quelle che conosciamo ma anche poi l'Università della Sapienza, Federico II di Napoli, la Bicocca di Milano insomma a suo tempo l'ISPRA, la stazione zoologica, la ricerca pubblica e l'Accademia pubblica italiana è tutta insieme per cercare di capire qualche cosa di questi magnifici ambienti e tutto sommato se li abbiamo trovati si vede che non facciamo poi delle osservazioni così campate in aria. Quando venimo con i tedeschi avevamo una di quei rover di cui parlavo prima si chiamava Quest 4000, 4000 vuol dire che può scendere a 4 km di profondità ma questo qui e quanto può scendere il nostro? Qui può scendere fino a 3 km, 3000 metri Siamo vicini, solo che era una macchina gigantesca quindi era magari più stabile e quindi siamo riusciti anche già a vedere in quell'epoca lì qualche corallino ma mi volevo riattaccare, oltre che avere scoperto i giardini di corallo del canyon di Bari furono scoperti in quella spedizione del 2007 però mi volevo un momento riattaccare quanto aveva ricordato, si era dilungato prima Federica cioè questo strumento smarrito nel canyon e ritrovato coperto di coralli Per noi è fondamentale non tanto smarrire gli strumenti ma è fondamentale l'informazione casuale che ci fornisce cioè già aveva detto Federica, ok ci sono le larve, quindi noi dobbiamo sempre immaginarci l'acqua del mare qui come un grande nasso trasportatore che porta i nutrienti, porta via le particelle ma porta anche i nutrienti e le larve che noi non riusciamo a vedere perché sono troppo piccoline le quali transitano verso la loro fine se non intercettano un qualche substrato utile e molte volte dei substrati artificiali accidentalmente magari persi come la nostra stazione di misurazione sul fondo ma può essere anche una nave affondata oppure come abbiamo osservato in altre situazioni in canale Sicilia o nello ionio strumenti di pesca sprofondati nel fango ma non completamente per cui le parti che sono fuori diventano in un posto impossibile altrimenti impossibile per i coralli diventa una chance ci sarebbe un termine tecnico che sarebbe di stepping stone che sarebbe quelle che noi, cioè le pietre sui quali uno saltella per spostarsi da una parte all'altra per esempio per attraversare un torrente quindi immaginiamoci che queste larve se trovano un qualche cosa di uno stepping stone una pietra là dove non te l'aspetti e gli offre una chance altrimenti la corrente del fiume se la porterebbe via ecco questa è una meravigliosa sintesi dei coralli bianchi di profondità affidati a questo costruttore che non è quello ramificato che abbiamo visto più in alto insieme alle ubiquitarie spugne Giovanni ti chiede se sei felice Giovanni mi chiede se sono felice no io sono completamente distaccato da qualunque infatti sono qua solo perché non sapevo cosa fare non avevo niente di meglio da fare ma è felice anche Giovanni perché comunque Giovanni credo che i grandi ecosistemi profondi del Mediterraneo cominciò proprio a vederli con le nostre navi da ricerca sicuramente con l'Urania che è quella che ha preceduto la Gaia Blu forse ma io questo non lo so anche l'Universitatis che è poi diventato Minerva 2 e comunque quelle navi a cui affidavamo le nostre chance di esplorare l'ambiente profondo non sono tanti anni che ce la facciamo prima facevamo tutto da superficie draghe restituzioni anche battimetriche che oggi farebbero anche sorridere per la loro semplicità ma senza di loro insomma tutto a un inizio per me poi particolarmente appunto per rispondere a Giovanni sono del tutto indifferente a essere in questo posto perché io da studente di secondo anno di geologia ebbi come tesi lo studio delle conchiglie strane morte, fossili di quello che allora non si sapeva che era un canyon ma era il canyon di Bari quindi è come una specie di diciamo c'è un'alfa e adesso c'è un'omega si ritorna nello stesso posto e adesso siamo qua con i nostri occhi e non è la stessa cosa credetemi di avere invece dei sacchetti di sedimenti o di conchiglie presi alla cieca e non immaginarsi neanche dove esattamente e come fosse l'ambiente sotto grazie Marco anche per raccontarci un po' la storia adesso abbiamo una tecnologia avanzatissima e appunto riusciamo a vedere con i nostri occhi ma come diceva Marco si è partiti insomma con dei dati e con delle informazioni ben diverse allora siamo soddisfattissimi di essere venuti qui perché oggi pomeriggio prima di decidere se venire qui siamo stati parecchie ore a guardarci le carte, le mappe, le informazioni precedenti e per scegliere il posto e abbiamo fatto anche un paio di scommesse c'è chi diceva che io no veniamo qui, no mettiamoci qui alla fine abbiamo concordato per questo sito che devo dire è essere veramente meraviglioso e per chi si è collegato adesso ricordiamo che dalla Gaia Blu la nave oceanografica del CNR stiamo esplorando questa montagna sottomarina siamo a 1043 metri di profondità e stiamo trovando una foresta diciamo un giardino di spugne con corallo solitario questo Desmophillum è piccolino e quindi quando lo vedete lo vediamo bene solo quando il ROV si avvicina e fa un ingrandimento questa è la nostra ultima diretta dopodiché scendiamo facciamo una pausa e verrà un'altra squadra a fare un altro tipo di ricerca e ricordiamo che qui con noi siamo appunto 19 ricercatori di vari istituti del CNR il CNR ISMA l'Istituto di Scienze Marine l'Istituto di Scienze Polari e l'IRBIM e inoltre abbiamo l'Università Federico II di Napoli abbiamo un dottorato finanziato dal Centro Nazionale di Biodiversità e abbiamo anche l'Università di Bari con Giovanni Chimienti che in questo momento non è in sala con noi ma si trova dentro il container dei piloti ROV qui sopra il ponte e li sta guidando per cercare di dare la giusta direzione e anche la giusta tipologia di osservazione perché qui si lavora in squadra ognuno ha una competenza ognuno dice la sua e tutti insieme si arriva poi alla risposta è così che abbiamo scelto poi questo sito così che abbiamo costruito questo progetto ora magari possiamo sarebbe curioso vi faccio vedere per curiosità anche questi schermi in modo tale che riuscite anche a vedere la forma di questa di questa montagna no Alessandra se magari gli zoomiamo ecco questa è la la montagna si chiama che state vedendo come vedete ha una forma un po' allungata noi stiamo arrampicandoci sulla cima che è la macchia blu che vedete questa è la ricostruzione colori inventati da noi chiaramente serve solamente per far vedere le variazioni di profondità ecco forse così si vede si vede meglio come abbiamo ricostruito questa forma del fondo del mare attraverso degli strumenti che sono montati sulla chiglia cioè sotto la nave e che ci permettono di ricostruire il panorama sommerso con un'altissima risoluzione senza di questi strumenti non potremmo vedere che qui c'è una montagna chiaramente sarebbe molto difficile sarebbe praticamente impossibile e non avremmo mai potuto scoprire che c'è un un canyon un canyon che è una profonda incisione proprio di fronte a Bari che va da 200 fino a 1000 metri di profondità e dove abbiamo concentrato in realtà i nostri sforzi in tutta la settimana passata con sia l'osservazione degli ecosistemi che della immondizia ecco qui abbiamo Alessandra che ci guida in questa esplorazione Alessandra è la navigatrice quindi rifiuti la persona che ci che dice al ponte di comando quindi al nostro comandante al nostro primo ufficiale stasera questa sera credo che abbiamo di turno come tutte le sere il nostro secondo ufficiale Umberto che salutiamo che ci sta seguendo anche con una grande curiosità perché non dobbiamo mai dimenticare che la nave va quando ha un equipaggio come il nostro capace insomma di guidarci quindi noi decidiamo dove andare ma sono chiaramente loro che ci guidano e che ci trasportano fondamentalmente ma con cui ci confrontiamo quotidianamente per capire se le operazioni che vogliamo fare sono fattibili o meno chiaramente chi governa il tutto è il mare ed è da lì che partiamo quindi dalle previsioni meteorologiche e dal vedere le condizioni di vento e di onda per fortuna questa settimana ci ha questa settimana ci ha accompagnato una bellissima un tempo perfetto per fare queste operazioni mentre nei due giorni di Pasqua noi eravamo qui anche a Pasqua e a Pasquetta siamo stati fermi perché avevamo anche abbiamo avuto circa 4 metri di onda per fortuna abbiamo un ottimo cuoco a bordo che ha alleviato un po' il fatto di essere lontani da casa e che ci ha preparato varie specialità della tradizione napoletana durante la Pasqua allora qui Marco per esempio Yard Ground la parte di substrato duro sta cominciando un po' a finire sì beh comunque noi siamo abituati al fatto che abbiamo poi queste queste zone queste zone a sedimenti più o meno spazzati dalle correnti ma diciamo che forse anche l'aspetto più comune dei fondali qui nella zona del canyon fatto salvo le pareti tutto è abitato quindi semplicemente c'è una qualità di vita che è proporzionata adattata alla specificità del luogo le spugne qui sono più piccoline alcune magari sono ancorate qualche cosa di duro una conchiglia un frammento di roccia che però è sotto quel pelino sottile di sedimenti non fa altro che aumentare però la biodiversità totale dell'habitat dobbiamo avere qualche volta anche la percezione che un habitat è non solo l'ambiente caratterizzato diciamo l'animale o la pianta più appariscente il panda se non li hai se non hai delle distese a bambù e non quelle quattro canne in croce il panda non potrebbe esserci quindi tutto l'abita ha delle parti abitate in maniera differenziata è bene che ci siano anche le piane le piane e quei sedimenti possono trattenere certi tipi di nutrienti che possono essere poi risospesi e quindi in periodo di magra e questo è anche vero perché queste correnti si generano a nord alcune di queste a nord dell'Adriatico quando fa freddo per cui noi siamo anche molto preoccupati dal fatto che stiamo andando avanti con il progressivo riscaldamento perché una delle macchine di creazione delle acque fredde che poi scivolano verso le parti profonde del nostro Mediterraneo è proprio in certi settori ben precisi e uno è diciamo il Golfo di Trieste il nord il nord Adriatico un altro è nel Golfo del Leone un altro è nel mare Geo rischiano di rallentarsi e di fermarsi se si prosegue con l'eccessivo riscaldamento e quello e si può essere una minaccia anche più importante che non l'occasionale perdita di rifiuti sottomarini e quindi una delle ragioni anche per cui così tante ricercatrici e qualche qualche ricercatore questi team di ricerca è proprio per mappare capire dove sono capire quali sono gli ingredienti che li stanno conservando in questo momento eventualmente fare predizioni per diciamo cercare di salvaguardarli o di perlomeno capire quali saranno gli sviluppi futuri perché potrebbe essere che la corrente dopo sia più superficiale o più profonda come è successo anche nel passato quindi magari quelle strutture tipo gli ARS che abbiamo messo adesso per capire al tempo zero nel futuro potrebbe essere più opportuno calarli a profondità diverse mi viene in mente che noi come tutte le sere chiediamo la partecipazione effettiva e diretta di chi ci ascolta sempre ricordandoci che non solo non esiste una domanda stupida mentre la risposta è stupida quante ne vuoi ma anche perché siamo con bagagli culturali tutti diversi quindi qualcuno di voi può essere un grande specialista in qualche particolare aspetto ma le domande permettono anche a noi anche se uno non è uno specialista di focalizzare meglio diciamo la risposta che dobbiamo dobbiamo elaborare e mi è venuta in mente perché grazie un po' a questa esposizione mediatica dai telegiornali che non so se stasera poi siamo passati ma ieri sera sì Federica ha già già due volte su Rai2 una su Rai2 l'altra su una qualche Rai Rai TG Italia benissimo altre sono programmate ma anche queste pillole Instagram eccetera siamo stati contattati allora mi piace in questo momento ricordare quello che ho ricevuto sul mio Whatsapp da Matteo Matteo è un amico mio è un istruttore di nuoto a Casalecchio di Reno vicino a Bologna e lui mi ha detto ma è incredibile vi ho seguito e ho visto che ci sono degli animali vivi a 600 metri io pensavo che a quella profondità la pressione fosse così alta così forte che non ci fossero questi animali è una domanda tutt'altro che oziosa e non tantissimi decenni fa si pensava che in effetti la pressione già a 60 70 80 metri di profondità fosse così tanta che non ci potesse essere la possibilità di sopravvivenza di esseri umani che mi sono schiacciati interrompo perché comunicazione comunicazione niente stavamo ovviamente il biologo non può non essere meravigliato da questo pesce di profondità debolmente alla deriva magari ha degli occhioni giganteschi perché di solito c'è un c'è il buio assoluto adesso non è che forse oggi gli stiamo facendo un grande servizio con i fari allora per tornare alla domanda di Matteo che era una domanda della intera comunità umana pochissimi decenni orsone orsone la maggior parte di animali praticamente marine è incompressibile e comunque è adattata alle grandi pressioni le pressioni sono elevate ricordiamoci che ogni 10 metri d'acqua è praticamente un'atmosfera un bar di pressione come si dice tecnicamente quindi noi abbiamo un'atmosfera di pressione quando viviamo sulla superficie terrestre cioè quella che abbiamo tutti noi in questo momento che siate a casa noi sulla nave però se andiamo giù solo 10 metri ne abbiamo due raddoppiamo quindi noi qua siamo a 1031 metri e quindi abbiamo 101 atmosfere di pressione e questo non è neanche la parte più profonda degli oceani perché poi abbiamo la fossa delle Marianne altre situazioni le grandi fosse abissali profonde più di 10 chilometri e quindi capite che già 10 chilometri 10.000 metri sono mille atmosfere e c'è vita certo una cosa un po' da evitare se prendiamo un organismo tipo un pesce da quelle profondità se lo riporti in superficie i biologi i zoologi per classificarli questi insomma se è molto rapido dopo si sciupano un po' gli animali un po' come quei film che vediamo su Marte che se quelli che uscivano fuori poi implodevano esplodevano dipende come è la pressione se positiva o negativa quindi domanda molto intelligente e molto interessante quella di di Matteo adesso anche gli uomini anche i subacquei escono a profondità cioè non ci accartocciamo i sommergibili potrebbero ovviamente perché c'è poi come le scatolette di una lattina di Coca Cola viene compressa no? e diventa piatta piatta e non lo facevamo brava quella dei bicchierini ti pregherei di raccontarla tu allora in PVC allora quando eravamo sempre su questa nave che si chiamava Falcon ricordo a chi non lo sa che questa nave è stata donata dallo Smith Ocean Institute questa organizzazione non governativa americana al CNR è stata donata all'Italia alla comunità scientifica marina italiana per esplorare il Mediterraneo e speriamo anche l'oceano Atlantico quando potremmo quando eravamo io e Marco ormai quattro anni fa Marco se non sbaglio con Paolo Montagna nell'oceano australe quindi eravamo in Australia al largo della città di Perth avevamo questo bellissimo Rov anche lì che poteva raggiungere 5.000 metri di profondità noi abbiamo raggiunto i 4.000 metri i nostri piloti Rov ci hanno fatto un regalo hanno portato questo bicchiere era un bicchiere di plastica normale classico bicchiere l'hanno montato l'hanno caricato diciamo su Rov e l'hanno portato fino a 4.000 metri di profondità e quando l'abbiamo tirato su il bicchiere era diventato piccolo così e quindi ce l'hanno firmato e ce l'hanno dedicato e ho ancora quel bicchierino a casa che è il souvenir insomma della missione è un bellissimo souvenir della missione ecco siamo ripartiti Marco prima c'era stata una piccola interruzione tecnica il Rov per chi non lo sa noi stiamo lavorando con un Rov cioè un veicolo teleguidato una specie di robot che ha una camera e delle luci perché qui saremo nel buio totale quindi senza queste luci non vedremo nulla è uno strumento che è un meccanismo molto complesso e molto costoso quindi ogni tanto ci sono dei piccoli malfunzionamenti ma questo è naturale considerate che è una macchina che viaggia a profondità elevatissime e ha montati anche due manipolatori due braccetti con i quali abbiamo raccolto i rifiuti in questi ultimi giorni oltre ai campioni non soltanto i rifiuti raccogliamo anche campioni biologici e campioni di sedimento ecco che la macchina sta facendo un controllo sul cavo questo è il cavo denominato ombelicale che lo guida che lo trascina inoltre c'è una gabbia che lo protegge e quando ci sono delle operazioni quando dobbiamo risalire in superficie prima il ROV viene posizionato dentro la gabbia e poi risaliamo allora qui stiamo facendo un check un controllo per vedere se tutto è a posto perché chiaramente l'operazione è complessa il cavo si potrebbe intrecciare si potrebbe avvolgere da qualche parte e poi diventa difficile tirarlo su quindi in realtà ogni volta che si scende anche a queste profondità dove noi continuiamo a esplorare per ore e ore adesso abbiamo iniziato alle 8 oggi pomeriggio e finiremo alle 5 di domani mattina quindi sono tantissime ore di funzionamento e assolutamente può succedere che qualcosa vada storto ma poi abbiamo i nostri piloti ROV che sono anche degli abili elettricisti nonché meccanici che ogni volta che c'è elettronici che ogni volta che c'è un problema lo sistemano poi a bordo ma questa è diciamo normale amministrazione quindi raccontavamo un po' questo aneddoto del bicchierino e per far capire Marco cercava di far capire la grande pressione che c'è su questi fondali a cui chiaramente non potremmo arrivare senza strumenti di questo tipo ora stiamo cercando di tornare sul fondo vedete questa questa neve marina così di cui forse stasera non abbiamo parlato e Marco magari che cos'è cosa sono queste questa neve marina non è neve chiaramente sono piccoli organismi che vediamo particelle anche che sono dentro la colonna d'acqua vediamo anche particelle di sedimento di fango in sospensione ecco questa adesso che vediamo sembra quasi del fumo ma non lo è chiaramente ed è anche molto difficile riuscire a stare a non sollevare questa polvere quindi il ROV deve restare a una certa distanza dal fondo in modo tale da non alzare sedimento ogni operazione deve essere anche calibrata con il mare quindi noi dobbiamo metterci in una determinata posizione in base alla corrente in base al vento insomma un po' per farvi capire per farvi vivere la complessità di tutto ciò che ora vediamo incredibilmente restituito su questo schermo tra l'altro in diretta vorrei ricordare che è la prima volta che una nave ora italiana e scientifica fa questo tipo di operazione quindi trasmettere in diretta l'osservazione e questo di un ROV e anche con un commento e questo è stato anche per noi un esperimento cioè un test per dimostrare insomma che la scienza può essere anche condivisa con altri ricercatori senza dubbio ma anche con il grande quello che si viene denominato il grande pubblico e questo è anche uno scopo del progetto Life Dream cioè di sensibilizzare e far crescere la consapevolezza che il fondale marino è qualcosa di eccezionale è qualcosa che va preservato che va curato e senza dubbio dobbiamo se buttiamo qualcosa in mare non perché non lo vediamo non esiste questo c'è una bellissima immagine anche che mostra questo quindi alziamo la coperta d'acqua e vediamo cosa c'è sotto e questo è fattibile solo in questo modo pensate che noi conosciamo meglio Marte che gli oceani noi abbiamo esplorato in questo modo in questo dettaglio il 5% del nostro del nostro mare dei nostri oceani perché chiaramente queste operazioni anche hanno un costo in termini economici ma anche in termini di tempo e necessitano di grande professionalità abbiamo fatto anche delle lezioni a scuola abbiamo avuto ormai una trentina di classi in questi giorni e sono state delle esperienze molto belle sia per noi che per i ragazzi perché abbiamo fatto un giro virtuale della nave tentando di fargli conoscere anche da vicino questo mestiere questo lavoro e chissà fargli appassionare e magari in futuro qualcuno di loro si troverà al posto nostro stiamo rientrando secondo me ah stiamo rientrando adesso stiamo sì forse c'è un qualche tipo di problema tecnico vediamo appunto che stanno rientrando verso la gabbia che alloggia il il rove dal quale poi viene si allontana è attaccato un ombelicare però insomma sai poi tu dici Marte noi continuiamo a dire queste cose ma Marte è facile da mappare è più piccolo è più piccolo della terra e non c'è il mare quindi dai rigidi attorno dacci oggi dacci domani ce la fai quindi abbiamo il problema appunto del fatto che siamo un pianeta d'acqua un pianeta blu il pianeta rosso è bello ma monotono il nostro e comunque l'acqua ce l'aveva adesso è abbastanza così possibile non dico certo che abbia perso i suoi mari i suoi fiumi i suoi laghi ma che li ha avuti in un'epoca lontanissima adesso c'è un check perché le condizioni di navigazione forse della macchina in questo settore potrebbero essere obiettivamente difficili ricordiamoci la diretta è anche questo cioè noi partiamo con dei piani decisi a tavolino valutati alla situazione a una certa ora e poi varie possibilità di contrattempi che hanno molto a che fare molto a che fare ovviamente con le condizioni meteomarine che non sono fisse presumiamo le correnti in una certa direzione invece così non è il rov dipende come un cane al guinzaglio dalla nave la nave è in superficie quindi la nave deve anche navigare essa stessa e se lo scarroccio c'è il vento ci sono le onde tante cose fanno sì che sia tutt'altro che agevole il più delle volte navigare in superficie e la nave deve essere la parte stabile del sistema perché il rov è molto più fragile essendo molto più piccolo è attaccato all'ombilicare quindi tutto deve essere fatto bene in concerto e comunque sempre suscettibile di modifiche anche drastiche all'improvviso è quello che una volta si diceva il bello della diretta che può essere anche il brutto della diretta insomma sì ora abbiamo comunque ci hanno comunicato dalla sala rov che abbiamo un dieci minuti diciamo di stop o meglio noi non ci fermiamo stanno verificando però forse è anche curioso così riuscite a vedere com'è fatta questa gabbia c'è questo cavo che è avvolto da un avvolgitore e se il cavo non si stende bene ci possono essere dei problemi e questo è il nostro braccio il braccio meccanico stiamo anche controllando il funzionamento del braccio tra dieci minuti dovremo essere in grado di riscendere sul fondo sì questo era un po' per aggiornarvi su questo aspetto qui da salora è giusto il tempo utile per farsi una tazza di caffè se rimanete su noi dobbiamo per forza prenderla o una tisana se la presentiamo la vostra buonanotte oppure mettere su un bucato sì abbiamo qui chiaramente tutto quello che ci occorre abbiamo la lavatrice l'asciugatrice la palestra perché poi abbiamo bisogno anche di sgranchirci le gambe ogni tanto allora adesso forse abbiamo un altro nostro collega Taci vuoi salutare allora qui abbiamo mentre Marco ci prepara anzi Marco se mi prepari una tazza di tisana o di un caffè possiamo fare due chiacchiere con Tà il nostro dottorando della stazione dell'università Federico II di Napoli è finanziato dal centro nazionale di biodiversità che ha finanziato insieme al progetto Life Dream questa bellissima spedizione Tà magari ci può dire che cosa fa è un po' di impressioni è uno studente e quindi è molto importante per noi anche fare formazione insomma su questa nave assolutamente grazie Federica niente io sono un dottorando all'università di Napoli Federico II e lavoro al CNR di Smart di Venezia e mi trovo qui a bordo della Gaia Blu principalmente ai fini del mio progetto di dottorato che brevemente riguarda un monitoraggio delle comunità bintoniche nei substrati duri tipo artificiale abbiamo predisposto tre siti per il mio progetto un sito costiero uno lagunare un sito invece profondo che riguarda uno di questi dove effettivamente abbiamo posizionato queste strutture artificiali per la ricolonizzazione dei coralli profondi per cui niente bisognerà sicuramente ritornare in uno di questi siti per posizionare anche un idrofono in modo da poter monitorare il paesaggio sonoro circostante e riconoscere identificare anche gli organismi soniferi cioè quelli che emettono i suoni qui a bordo della Gaia Blu mi occupo principalmente della navigazione per cui tengo sotto controllo il diario di bordo lo teniamo fondamentalmente aggiornato mi occupo anche di garantire le comunicazioni con il ponte con gli operatori ROV durante tutte le operazioni e poi mi occupo anche dell'acquisizione dei dati multibim quindi dei dati di battimetria e dati di backscatter oltre che i dati relativi anche alla colonna d'acqua che sono stati fondamentali in alcune delle nostre fondamentalmente per cercare alcune strutture che sono lungo la colonna d'acqua per cui questo strumento risulta essere fondamentale perché ci dà anche questo tipo di informazione e cos'altro? Grazie 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 a voi sicuramente questo è un laboratorio sperimentale in cui si possono imparare un sacco di cose ci sono tecnici ricercatori super esperti da questo punto di vista quindi è anche una bellissima occasione opportunità essere qui quindi ringrazio Federica ringrazio anche Fantina che sono le mie due supervisor del mio progetto di dottorato e per cui penso che potrebbe essere una vera e propria diciamo inizio anche per portare altri studenti e fare questo tipo di esperienza che potrebbe essere veramente molto formativo per cui sì è giusto è giusto comunque vedere le cose sui libri studiare imparare ma secondo me l'approccio pratico e questo tipo di attività questo tipo di esperienza tende a ad essere sicuramente molto più motivante e sicuramente anche molto più formativo per cui grazie ancora grazie a te perché comunque è un lavoro faticoso impegnativo e ci vuole una grande determinazione anche insomma sopportazione perché Tasi è fatto tutte le notti insomma dalle 4 alle 8 di mattina quindi è abbastanza faticoso ci si abitua si prende il ritmo assolutamente si dorme poco da queste parti quello che vedete inquadrato questo è un cesto un cesto metallico che abbiamo che stiamo utilizzando per raccogliere compioni di vario genere quindi dai campioni dei rifiuti fino ai campioni biologici e ai campioni di sedimento i campioni di sedimento che saranno analizzati dall'università Federico II di Napoli e per tirare fuori le tracce del DNA dentro questi sedimenti e andare a ricostruire attraverso il DNA anche la vita e che cosa e quali sono le caratteristiche ambientali questa è anche una ricerca di frontiera e nell'ambito del centro nazionale di biodiversità è una parte diciamo della sperimentazione e della ricchezza di informazioni che vogliamo portare e far conoscere speriamo di tutti i risultati comunque di questa campagna di questo progetto verranno condivisi verranno mostrati sia in diciamo contesti scientifici che anche in contesti più divulgativi grazie anche ai ragazzi dello Space 42 quindi questa agenzia di comunicazione che è a bordo con noi Sani e Alessandro che ci hanno seguito lungo tutto questo viaggio dall'inizio siamo partiti da Crotone il 27 di marzo e chiuderanno con noi la campagna domani e che ogni giorno hanno pubblicato sui canali social per esempio di Instagram di Life Dream EU è il canale Instagram questi video queste piccole pillole di questi reel che raccontano un po' la vita di bordo oggi c'era proprio Ta insomma la storia di Ta che è stata pubblicata ognuno di noi ha avuto la sua la possibilità di esprimere di raccontare quello che fa qui abbiamo sicuramente 10 minuti un quarto d'ora i tempi si si dilatano un po' e a questo punto vediamo di aspettiamo le nostre tisane il nostro caffè e ci fermiamo anche con voi per insomma non annoiarvi alla visione di questo cestello e saremo di nuovo attivi tra poco per cui metterò questo cartello che mi ha insegnato a mettere Alessandro che si chiama Be Right Back quindi appena saremo di nuovo operativi riaccendiamo questa questa live insomma che magari può interessarvi e continuiamo con il nostro racconto se volete restare ancora con noi o per chi si unirà a noi un po' più tardi comunque si andrà avanti per tutta la nottata e la nostra ultima nottata poi domani finiremo in giornata con altri rilievi e e poi magari la prossima campagna che inizierà il 5 maggio a largo di Napoli sarà lo stesso comunicata in questo modo via streaming e quindi metto in pausa e ci rivediamo tra una diciamo 15 minuti a presto e saluto tutti gli amici che si sono collegati fino a qui e io purtroppo non vedo esattamente chi c'è però ringraziamo insomma che siete interessati alla nostra avventura e ci vediamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 inizia. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. robot. a tutti. 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 tra. tra. a tutti. che. tutti. 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 . da. tutti. sono. su. tutti. su. tutti. quando. ti. . tutti. . 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